Bentornati a Stati di Carta, grandi storie di piccole nazioni. Ormai l'avete capito. Più che la cronistoria delle micronazioni, cosa è successo nelle varie parti del mondo e come è andata a finire, quello che ci interessa in questo podcast è l'idea che sta alla base di quello che definiamo micronazionalismo. La molla che spinge una persona o un gruppo di persone a piantare una bandierina su un Atlante pieno zeppo di nazioni, tutte con confini, stati, presidenti, governi, tribunali e, dettaglio non da poco, eserciti. Qual è l'idea di fondo? Qual è la spinta? Da cosa muove l'afflato di indipendenza a tutti i costi? Ci siamo lasciati delineando il bizzarro e audace profilo dell'ingegner Giorgio Rosa, l'uomo che ha fondato la più famosa delle micronazioni d'Italia, o meglio dire, oltre l'Italia, perché l'Isola delle Rose è sorta nelle acque internazionali dell'Adriatico, poco lontano dai Rimini e lì è resistita per 55 giorni. Un profilo stimolante per capire quali possono essere le motivazioni alla base di avventure di questa natura. Ricordo qualche elemento in ordine sparso. Chi è Rosa? Ex ragazzo di Salò, diventato un integrato borghese di provincia, fieramente anticlericale e contro ogni moralismo, convinto iperliberista, percorso da una vena che oggi definiremmo di antipolitica, tanto che per sua stessa ammissione disertò le urne per tutta la vita, con due eccezioni, per votare Guazzaloca sindaco di Bologna e una volta Silvio Berlusconi. Ecco, l'ingegner Rosa era questo e altro. Nel 65, all'insaputa della Capitaneria di Porto, che aveva concesso dei permessi per non meglio specificati sondaggi in mare aperto, si inizia a lavorare con maestranze del posto. Il primo tentativo non va a buon fine. Una prima struttura si inabbissa rapidamente. Sono mesi frenetici e incerti. A volte per la nebbia che avvolge la distesa d'acqua dell'Adriatico neanche trovano il punto giusto. Ma dopo due anni di lavori, il sistema dei piloni cavi funziona e le colonne dell'Isola delle Rose, riempite di cemento armato, ispirate ai templi greci, spuntano finalmente dal mare. Le maestranze lavorano sodo. I materiali arrivano via barca, facendo la spola da rimini. Rosa dirige tutto nei minimi dettagli. Per lavorare anche col mare grosso, circonda l'aria con tubi di plastica galleggianti, prodotto di un brevetto inglese, in grado di attenuare le onde intorno all'isola. Sistema che userà in seguito anche per favorire l'attracco delle barche di turisti e avventurieri. Dopo i piloni si lavora sulla superficie, circa 400 metri quadri, e sopra di questa la struttura in muratura. Costo dell'opera una cifra non esorbitante, almeno a sentire Rosa, che anni dopo quantificò in una trentina di milioni di lire la spesa sostenuta per materiali e manodopera. Siamo nel 67 e l'isola conquista una suprema autonomia, l'indipendenza idrica, raggiunta grazie a un enorme motore e a una trivella che permettono di estrarre acqua dolce dal fondo dell'Adriatico. Una conquista, anche se da allora in poi nulla sarà più come prima. Infatti l'alta trivella rende visibile la piattaforma occhio nudo da Rimini, anche dalla Capitaneria di Porto, che a quel punto si ricorda dei permessi accordati all'ingegnere. Inizia così il braccio di ferro con le autorità e le istituzioni della Repubblica Italiana. Le motovedette si regano in loco e capiscono subito che siamo ben oltre i permessi accordati a suo tempo, limitati a sondaggi marittimi. A questo punto quell'idea covata per anni da Rosa si concretizza in un principio che l'ingegnere difenderà fino all'ultimo. L'isola delle Rose sorge a 11.612 metri a largo di Rimini, in acque internazionali, e lui non deve chiedere il permesso a nessuno. A vedere quella strana piattaforma non sono solo gli agenti della Capitaneria. La voce si sparge a Rimini e in Riviera. Cosa stanno combinando in mezzo al mare? La stampa inizia a parlarne. Le voci e le speculazioni sono ingovernabili. Si parla di un albergo, anzi di un casino, di più, di un nightclub o forse di una casa di appuntamenti. Ma anche di una radio privata in stile britannico. C'è chi arriva a pensare che dietro a quello strano atollo di acciaio e cemento ci sia la manina dei russi, antenne sovietiche in grado di spiare l'Italia dei fermenti politici. L'isola a quel punto mette in piedi la sua identità nazionale. Rosa ha bisogno di una lingua e qui entra in gioco un frate francescano, Albino Ciccanti, uno che criticava il Vaticano perché parlando in italiano e nelle lingue più diffuse escludeva pezzi di mondo dal verbo ecclesiale che sarebbe dovuto essere universale. Ciccanti è un convinto esperantista e grazie al suo contributo la micronazione diventa l'esperanta res pubblico della insulo della Rosoi, questo è il nome per esteso, nella lingua in cui viene redatta anche la Costituzione. Insomma ci siamo. Il primo maggio del 1968, data capitata per caso senza riferimenti alla festa dei lavoratori, viene proclamata ufficialmente l'Isola delle Rose, stato indipendente con un inno nazionale tratto dall'olandese volante di Wagner, un ufficio postale che emette Franco Bolli e un governo formato da stimati professionisti amici di Rosa, un porto franco e corsaro che calamita un bizzarro popolo, una giovane coppia ci pianta le tende per gestire il ristorante, nei progetti una banca e un albergo. Tornando al popolare film di Netflix, a questo punto entra in ballo Rudy, una polide tedesco che puliva i cessi dei locali della riviera, così viene descritto. In realtà Wolfgang Rudy Neumann, questo è il suo nome, era un campione tedesco di scinautico, all'epoca impegnato in Romagna, che viene chiamato da Rosa per fare le public relation del nuovo Stato, una sorta di ambasciatore con il ruolo di ufficio stampa. L'Isola diventa presto meta di gite di turisti e curiosi, ma il gioco finisce presto. Il 26 giugno del 1968 le forze di polizia italiane occupano la piattaforma e impongono il blocco navale nella piccola porzione di Adriatico, ordinando la demolizione dell'isola. La notizia rimbalza dalle cronache locali ai giornali nazionali e ai rotocalchi. L'Italia in guerra per un topless, titola un quotidiano. Una guerra che Rosa deciderà di combattere in tribunale, chiedendo l'annullamento dell'occupazione dal momento che la piattaforma sorge in acqua internazionali, su cui l'Italia non ha alcuna giurisdizione. Il caso deflagra e arriva in Parlamento. Curiosamente sono missini e comunisti a presentare due diverse interrogazioni parlamentari, accomunate dall'obiettivo politico di mettere in difficoltà il monocolore DC, che si è da poco insediato, un classico governo balneare dell'epoca, guidato da Giovanni Leone. Ma facciamo un passo indietro. Perché il governo ha agito con tanta fermezza e come ha potuto compiere un atto di forza fuori dalle proprie acque internazionali? È chiaro che a Roma non avevano voglia di scherzare né di finire in burletta, per quella che era vista come una secessione incomprensibile e sovversiva. Ebbene, il governo per mano del ministro dell'interno, il democristiano Franco Restivo, ha agito in merito a un'eccezione del diritto del mare, in base alla quale la sovranità può essere esercitata anche oltre le acque internazionali, nell'ambito di una zona di influenza economica. Insomma, il limite della nazione, in certi casi, può essere spostato un po' più in là. Tanto che poco dopo, in quelle acque, è sorta Azalea B, piattaforma energetica offshore, che secondo alcuni sarebbe la vera causa di tanto accanimento verso il sogno indipendentista dell'Isola delle Rose. Torniamo agli eventi di quei giorni. E ora, che fare? Escluso l'uso della forza, anche soltanto per manifesta inferiorità rispetto al gigante nazionale, per ironia della sorte, Rosa prova a sfruttare l'odiata burocrazia italiana. Chiede agli occupanti dell'isola di fargli causa, giusto per bloccare la demolizione, ma non ottiene nulla. Ormai il destino è segnato. L'ammazzata finale arriva dal pronunciamento del Consiglio di Stato, il quale in pratica decreta che le acque internazionali tali sono, e nessuno può intestarsi nella sovranità, tanto meno Rosa. Gli incursori della marina penano un po', l'isola non ne vuole sapere di affondare sotto le cariche di plastico e tritolo, ma alla fine si ne abbissa da sola in una pausa dell'assedio nel mezzo di una tempesta. Non pensavamo certo di dichiarare guerra all'Italia, ha raccontato in seguito l'ingegnere Rosa, che quanto al ministro arrestivo, dice che l'isola era diventata la sua ossessione. Probabilmente si è contrariato perché non eravamo più italiani. Io sono Davide Di Santo e questo è Stati di carta, grandi storie di piccole nazioni, un podcast del quotidiano Il Tempo. Alla prossima!